Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba, ma non ho la barba, e io sono Martina Benvenuti in questo nuovo video, come vedete qua si sente già l'aria del Natale Oggi sono qua con mia sorellina per fare un video Allora, come vedete qua abbiamo uno sgabello con un tasto che fa anche da cassa Praticamente, oggi noi faremo un video che si chiamerà completa la canzone di TikTok Perché per chi segue TikTok, per chi passa molto tempo su TikTok, saprà questa cosa Che certe canzoni si sentono solo su TikTok Non so se ti è mai capitato, però magari tu dici cazzo questa canzone è famosissima E poi invece qualcuno non la conosce perché non va su TikTok Ah sì 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 Noi abbiamo preso un sacco di canzoni da TikTok che si fermeranno a un certo punto E devono continuarla E chi si prenota per primo deve continuarla E si guadagna al punto se si continua bene Ovviamente si stopperà all'improvviso, non sappiamo quando si stopperà la canzone Siamo pronti 3, 2, 1 Salacabula, Mechicabula, biglidi-boblidi-boom Un punto per me? Ma dobbiamo indovinare le parole esatte Eh più o meno In the sky E poi? Eh che tono Eh 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 di aere me la sono scaricata questa Questa è la canzone del TikToker preferita di Martina Sì Brava Martina, due a uno No Oh no Sono un pochino stonato Buonissimo mamma No, ho provato prima io Voglio un replay qua, un ralentatore Mi sono tagliato Anche io Re leone questo qua Gimmi un gimmi un gimmi un piccio baby Quattro tre Ma muoviti Aia Tu, tu, tu No, no, no Cos'è? Dai, dice solo A, A, A Quindi quanto? Quattro a quattro? Sì Ho già perso il conto No Sì Non è questa Che cavolo dici? No No, è così No I'm gay Ma vai a cagare Guarda, senti Ho capito, ma io cosa ne so che metti l'inizio di qua? I'm gay Ma cosa ne so che fa così? Ma no, questo bara, bara, sbara Scusa, lì dice quello Non puoi né non dè Ma scusami È così Vabbè, punto a tutte e due, dai Sì Ma muoviti, Carmine Punto a tutte e due, non ti scaldare No, no Questa sfida si sta facendo focosa Caliente Caliente, caliente, caliente Alta, caliente No, gravity No, io, io, io Gravity Però non vale Le dico prima io Ma non c'entra che si prenota caliente Ho capito, ma se metti la mano qui pianta per davanti due ore prima che finisca la canzone come faccio io a prenotarmi? Dimelo Nervosa, eh, si sente che sta perdendo Quanto siamo? Che ne so Sei a cinque se non erro Ma cosa dici? Non è vero Prima, punto a tutte e due Non è vero Black and white, come negli anni sessanta Chi è? Biondo Mule Dio Mintica Sei a sei Se non erro Finisce sempre così quando siamo io e te Culo Ale, ale, ale Finiamo sempre nella stanza dote Ale, ale, ale Ma quella che adesso non No, quella è tutto Finiamo sempre nella stanza dote No, ha detto siamo sempre così io e te e poi nella stanza dote Va bene, dai, quanto? Eh, ma aspetta E poi come facciamo a sapere a fine video chi ha vinto se non teniamo il conto? Quante ore siamo? Sette a qualcosa Sei per te? O per me? No, per me Per te? Sarà così Chiuso in camera Questa è già tua perché non la so Forse non c'è una via giusta per te Una uscita per me Una uscita per me Ma guarda qua La mia città Come Panama Non mi ricordo doveva Punto mio Punto tuo perché ho detto solo le parole Perché io l'ho considerato di più Quindi sette a sette Ok Adesso Ho schiacciato io Ho schiacciato io Non è che schiacciato Io schiaccio prima e devo cantare io Vieni adesso Ho pagato caro per aver Ma che cavolo Spy Come no? Ma Ho pagato caro il prezzo di questo successo Ho giovanere perché dovrei cambiare adesso Gli odiamo a questo punto E diamoglio dai 8 a 6 per me Ma che 8 a 6 Ero 7 Ero 7 Sai che se avrò colpi sparerò Vedi foto Voglio assolutamente fare un altro episodio di questa serie Quindi commentate nei commenti Chi volete il prossimo episodio Ma sono un po' grassiva E devi continuare la canzone Esatto E qual'era? Vedi i bossori a terra e nei miei boxe Tu parli di me ma guardati te Se ne passa la pena Non la crena salvia Ora pensi a rimeno Eeeh 9 a 8 giusto? Boh Non vale Non vale Non vale Porta la tua tipa al tablo Ma non vale Mi conosci solo il diablo Se però non è giusto tu bari Oh Quindi 9 a 9 Muoviti Aspettare Foto con un'altra ma è tutta normale Ma è tutta normale Vale Non è giusto Dovi mettilo qui? Sì 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 Mi posso fare io Pam pam Enjoy San Enjoy San Ah Mio Punto mio Ho scherciato prima io Sì Però mi sono rotta 11 a 9 Eeeh Macaria Macaria Macarena Ciao Nenica Suena Eeeh Macarena Macarena Eeeh Macarena Macarena Eeeh Macarena God damn God damn God damn Ok vai Quindi 12 a 10 Na 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 Marti non è schiacciata se lo schiacci no Cosa mi dice ero così Ero così No Io voglio il rallentatore La mia appunto 13 a 10 E se non schiacci schiacci come me Ma non è vero Lasciami cantare Like in this American boy Come boy I've got you I've got you I've got you I've got you That's all I've got you I've got you I've got you I've got you 14 a 10 This is it another one Huh There's an enemy huh Huh What is this huh 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 Ok No Usa solo lui A Siamo Sono uno Genitore Tue Uno Uno Una e due Uno 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 e due Io SONO Giorgia Sono una donna Sono una madre Sono Cristiana Giorgia Giorgia I like Girls 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 Non vale Girls All'anf比Em Cosa vuoi Hanno indovinato cosa vuoi Come la facevi tu Non è che è facile solo per me Fa ab let's ego tutte due mattine di muovere wow ma che ora mette le mani qua dietro ok direi che il video può terminare qui con una vittoria vittoriosa di giuseppe se non erro se non abbiamo fatto male i conti no secondo me ho avvento io però vedremo vedremo quindi se sei un nuovo iscritto se ti sei iscritto adesso se sei nuovo iscriviti vabbè iscriviti commenta con hashtag nuovo iscritto ci vediamo un prossimo video domani perché ogni giorno un nuovo video il vostro calendario dell'avvento sono io e niente presto nuovo video con mia sorella commentate con qualcuno con cui fare la challenge definisci la canzone termina la canzione dei tic toc io sono barbuto ma non ho barba ciao